salve ragazzi carmici del web sono andrea bruno in questo momento mi trovo a singapore in un centro commerciale del super russo dove appena ordinato un pranzetto giapponese è un pranzetto che vi farò vedere essenzialmente ho ordinato una minestra di pasta con dentro questi bellissimi panzerotti qua e ho ordinato anche dei un cibo che io ho già visto in georgia in georgia si chiamano kinkali e guardate qua mi hanno portato questa specie di disco che si mette a suonare quando sono pronti mi stanno avvertendo che devo andare a ritirare qui il massimo della tecnologia questi kinkali ci sentiamo ciao a tutti alla prossima